Musica Venerdì 30 dicembre, buongiorno da Gabriele Silvestri e dalla redazione, benvenuti al consueto spazio dedicato all'informazione con la rassegna stampa di oggi attraverso i quotidiani e l'ultima ora dal web. Ebbè affrontiamo subito i temi del giorno partendo dalla prima pagina di Repubblica, oggi la tensione di Repubblica è rivolta al caso le retriba Stati Uniti-Russia, toni da guerra fredda ma alla casa bianca ne arriva un amico di Putin, Trump, interferirono sul voto Obama e Spelle 35 diplomatici russi. In quello che ormai è un triangolo di guerra politica strategica e personale fra Obama, Trump e Putin, cade la bomba delle rappresaglie antirusse sganciate dal Presidente in carica soli 20 giorni. Dal suo addio il lato scuro dello zar nella storia della guerra di spie, soltanto il governo britannico aveva inferto al Carmelino un colpo più duro di Barack Obama quando nel 71 aveva espulso 105 sovietici da varie missioni a Londra. Quindi questo è il parallelo con il passato di Paolo Garimberti per capire la portata della scelta di Obama proprio negli ultimi giorni di presenza alla Casa Bianca. In taglio centrale invece le questioni italiane, gentiloni, le riforme da salvare, giustizia, sud, province, lavoro, IRPEF, dipendenti pubblici. Ecco i fronti caldi dell'esecutivo, il capo del governo, continuità con Renzi, ho scelto io Boschi sulle banche, non cederò all'incontro di fine anno con la stampa, dice che il risultato referendario non si cancella, ma sarebbe un errore cancellare il lavoro fatto dal governo Renzi. Dopo Matteo il potere grigio, scrive Francesco Merlo, questo dice giusto e necessario, lo scorso anno, ancora l'anno prima, quello diceva epocale, è gigantesco. Le simulazioni, con il Mattarellum si vince con il 40%, ma con i risultati del 2013 nessuno dei partiti arriva alla maggioranza. Poi il punto di Stefano Folli, le due facce del Premier, ieri si sono visti all'opera due gentiloni, entrambi cortesi e pacati, tutt'altro che ansiogeni nel proporre gli argomenti e nel rispondere ai giornalisti. Ma due personalità diverse, invece nel taglio basso troviamo il caso Monte dei Paschi, le risposte che mancano, abbiamo messo in sicurezza il risparmio, anche Paolo Gentiloni ricalca le orme di Matteo Renzi. Anche il nuovo Premier, dopo aver varato il decreto salva Monte dei Paschi, tira un sospiro di sollievo, come fece il vecchio Premier il 22 novembre 2015, dopo aver varato il decreto salva Etruria. Sollievo mal riposto, ancora come oggi, il salvataggio della banca più antica del mondo avrà costi enormi, ancora incalcolabili. E poi intervista al DG Campo Dall'Orto, Berlinguer, Gabanelli e PIF, RAI autonoma dalla politica. La RAI è uno dei pochi luoghi rimasti che può fare da collante a una società che si sta sfilacciando e non solo in Italia. Il direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, all'aria soddisfatta di chi ha registrato alcuni successi. Andiamo brevemente sul web per la notizia dell'ultima ora. Affrontiamo ancora l'emergenza meningite in Toscana e non solo. È morto un bimbo di 22 mesi a Firenze ed un giovane a Napoli. È grave anche una donna a Chiavari, quindi resta alto l'allarme meningite. E dopo il caso di un bambino non vaccinato o morto a Firenze viene segnalato un altro caso a Chiavari, dove una donna di 34 anni sarebbe ricoverata in condizioni critiche, confermata la diagnosi anche per il 18enne morto a Castellammari di Stabia in Campania. Un bimbo di 22 mesi è morto all'ospedale Meyer di Firenze, colpito da meningite. Il laboratorio di immunologia ha confermato la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C. Il piccolo era giunto all'ospedale pediatrico fiorentino nella tarda serata di ieri, a bordo di un'ambulanza dalla Lucchesia. Le sue condizioni al momento dell'arrivo erano disperate. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo il bimbo non ce l'ha fatta. Da quanto risulta il bambino non era stato vaccinato ed è stata subito attivata la profilassi per i parenti del piccolo. La morte del bambino porta a 7 i decessi per meningite di tipo C nel 2016, complessivamente 60 i casi registrati in Toscana dal 2015 a oggi, 31 lo scorso anno e 29 in quello in corso. Ed è morto di meningite il 18enne di Agerola, provincia di Napoli, è giunto ieri sera in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. La diagnosi confermata dagli esami effettuati all'annoso comio stabiese in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli e hanno accertato così la possibilità per Neisseria meningitidis, lo comunica l'Asler Napoli 3 Sud, alla quale fa capo l'ospedale di Castellammare di Stabia. È una peruviana di 34 anni, come abbiamo anticipato, è in rianimazione all'ospedale San Martino di Genova per meningite ancora da meningococco. Le sue condizioni sono critiche, è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna ed è stata poi trasferita in condizioni già critiche a Genova. Adesso continuiamo la nostra rassegna stampa, ritornando sui giornali e in particolare apriamo la prima pagina del Corriere della Sera per i titoli evidenziati dal quotidiano. Anche qui Obama manda via le spie russe, per la Casa Bianca c'è Mosca dietro gli hacker, ma Trump frena sulle sanzioni, spuzzi 35 diplomatici accusati di manipolazione del voto e Putin impone la sua tregua in Siria. Obama si scaglia contro la Russia via le spie, espulsi in 35 i diplomatici accusati di manipolazione del voto. Trump frena sulle sanzioni contro Mosca e quindi intanto Putin impone la sua tregua in Siria. Le conseguenze di un finale, la guerra fredda, scrive Paolo Lepri, il lungo addio di Obama previsto dalla Costituzione americana sta diventando ancora più lungo se misuriamo il tempo, calcolando l'intensità e non solo la durata. Non siamo di fronte solo a un grande spettacolo, quanto sta accadendo in questa transizione avrà ripercussioni importanti sulla realtà dei prossimi anni. Gentiloni difende le riforme di Renzi, le elezioni non sono una minaccia, il governo c'è finché c'è la fiducia della sua maggioranza, la prima conferenza stampa di fine anno da Premier, Gentiloni difende le riforme di Renzi sul lavoro Sud e Giovani e sostiene che le elezioni non sono una minaccia, se le condizioni portassero al voto entro l'estate con campagna elettorale durante la presidenza italiana del G7 non sarebbe una tragedia. La scelta dei toni pacati che rompe con il passato, il commento di Massimo Franco, la continuità con Renzi è stata così insistita nella conferenza stampa di fine anno dei Premi a Gentiloni da insinuare qualche dubbio, ha finito per marcare le differenze di tono e di stile non solo una grammatica politica comune. Ancora altre notizie sul Corriere della Sera, il segretario spera di votare a giugno, l'obiettivo è l'Election Day, Renzi punta alle elezioni anticipate nel giorno dei comuni, un migliaio che andranno al voto il prossimo anno. Ancora, vediamo, Aldo Cazzullo scrive i segnali di ripresa a quegli italiani, modello per tutti il meglio e il peggio, l'odio politico e l'idiozia di gioire per una morte. Sono due pezzi che troviamo in prima pagina sul Corriere della Sera, a centro pagina una fotonotizia, invece riguarda Hillary Clinton a colazione in solitaria, l'inevitabile solitudine degli ex numeri primi, andare sempre più in alto e poi essere precipitati giù. Come scrive Shakespeare in Riccardo III, capita il tornare alla normalità perché è stato numero primo, così come è successo a Hillary Clinton, fotografata sola al cellulare, quindi insomma il focus sul ex segretario di Stato americano, candidata alla Casa Bianca, ha perso poi la presidenza a vantaggio di Donald Trump. La buona scuola finisce in retromarcia, cambia la riforma epocale, gli insegnanti trasferiti potranno chiedere subito il rientro. I muscoli del capitano, per citare De Gregori, non hanno dato i risultati promessi, anzi meglio un passo indietro, il senso della riforma epocale della buona scuola, di là di questo o quel punto, come la sterzata sui trasferimenti, sta in due righe del comunicato dei sindacati, che salutano trionfanti un riequilibrio del rapporto tra leggi e contrattazione a favore di quest'ultima, ovvero d'ora in avanti l'ultima parola spetterà ancora alle regole fissate dal governo, ma solo dopo un confronto con i rappresentanti dei lavoratori. E poi Milena Gabanelli scrive un piano vero sui profughi, ma l'Europa deve crederci, il problema dell'accoglienza dei profughi va risolto, bisogna trasformare lo tsunami in un'opportunità traverso un progetto complessivo, pragmatico e a gestione pubblica che sfrutti ex ospedali, caserme e luoghi tolti dalla mafia. I comuni allora sarebbero pronti a fare la loro parte, ma l'Europa deve dire se ci saranno i fondi. Ci fermiamo, piccolo break per noi, torniamo con gli altri giornali, tutte le notizie di oggi e fra poco.